Per fare questi golosissimi alberelli di Natale ci vogliono soltanto due ingredienti. Srotoliamo la pasta sfoglia rettangolare e spalmiamo con crema di nocciole. Ma si potrebbe usare anche il pistacchio. Copriamo con altra pasta sfoglia e tagliamo delle strisce. Le ripieghiamo su se stesse in questo modo e formiamo i nostri alberelli. Infilziamo lo stuzzicadente e se vi piace decorate con una ciliegia candita. Disponiamo sulla carta forno un po' di cannella in superficie e via in forno. Zucchero a velo per decorare e ora ditemi quanto sono graziosi questi alberelli.